Ciao a tutti, sono Anastasia Persina-Jara, cantatrice della Russia, grazie mille, è Lucy Caritonian e Max Elvis per dare la possibilità di far ascoltare la mia canzone. Pronto? Luzic, buongiorno. Buongiorno ragazzi, come state? Oggi dobbiamo ascoltare una canzone che Anastasia Persina-Jara ha voluto farvi ascoltare la sua canzone che si intitola Matrimonio a Sorrento e canta con Anjian in duetto. La canzone si intitola Matrimonio a Sorrento e la cantano? Luzic? Andrian e Anastasia Persina-Jara, Anastasia Persina-Calda. Ok, se lo merita. Luzic che collabora con noi è sempre lì in prima fila, si sveglia la mattina presto per mandarmi tutti i file. È bravissima, è bravissima. Luzic che abbia la notizia, è bravissima. Luzic che abbia la notizia, è bravissima. Luzic che abbia la notizia, è bravissima. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti